Qui invece c'è questa scritta dove il Signore Gesù è la via, la verità è la vita e ringraziamo il Signore per le varie persone che sono venute anche oggi all'ascolto della parola di Dio. E' stato letto dal Vangelo secondo Matteo che Gesù viene rinnegato da Pietro tre volte, la cosa interessante è che lui ha giurato, ti giuro su Dio non lo conosco, e poi ha anche maledetto, chissà cosa avrà detto, mannaggia te oppure scema o scemo, stai zitto, non si sa quello che ha detto, ma noi sappiamo che ha maledetto. E appena il gallo ha cantato lui si è reso conto e si è pentito. E allora ringraziamo il Signore per le persone che sono venute, vediamo se adesso c'è tra le varie persone qualcuno di loro dopo aver accettato il Signore che ha qualche domanda da fare.